La Commissione Legalità del Comune di Napoli ha incontrato la nuova dirigente del servizio beni confiscati Nunzia Ragosta per fare il punto su questo importante tema. Auspicabile per Iris Savastano di Forza Italia che la Commissione si occupi al più presto del regolamento sui beni confiscati e che al servizio vengano assegnate le adeguate risorse umane strumentali. Necessario poi utilizzare una parte di questi beni a supporto delle vittime di violenza sia come alloggio sia come opportunità lavorativa. Rosario Andreozzi, Napoli solidale Europa Verde difendi la città, ha sottolineato invece la necessità che l'amministrazione supporti con le adeguate risorse e il servizio e ha auspicato che si formi al più presto un tavolo di coordinamento permanente e che le difficoltà del governo sul PNRR non colpiscano anche i beni confiscati. Per Alessandra Clemente del gruppo misto è necessario dare la massima visibilità alle manifestazioni di interesse per l'assegnazione di un bene confiscato che è un bene di comunità. Ma ascoltiamo ai nostri microfoni la nuova dirigente del servizio beni confiscati Nunzia Ragosta. Molto è il lavoro da fare dalla revisione delle linee guida all'accensimento specifico di tutti gli immobili acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente e soprattutto una grande opera di valorizzazione. Tante le problematiche, dalla conformità edilizia urbanistica all'abbandono, allo stato di inutilizzo, alla vandalizzazione dei beni, alle problematiche economiche per la manutenzione e all'attenzione all'utilizzo e al reperimento di fonti di finanziamento per la rifunzionalizzazione dei beni.